L'ospedale Bonomo di Andria ha ufficialmente un presidio di polizia al suo interno, inaugurata la postazione di sicurezza cercata e voluta da tempo per sopperire agli episodi di violenza fisica e verbale che spesso hanno interessato, in particolare il pronto soccorso del nosocomio andriese. Saranno due gli agenti presenti per il momento nella fascia oraria compresa tra le 8 e le 14. L'obiettivo futuro è quello di aumentare le ore di presidio e soprattutto istituirlo anche in altre strutture sanitarie della provincia BAT. È un'iniziativa che è stata fortemente voluta dal ministro dell'interno e dal capo della polizia, anche alla luce dei fatti che si sono verificati in altre parti d'Italia, qua devo dire che fortunatamente non si sono registrati episodi particolarmente eclatanti, ma ciononostante abbiamo voluto dare un segnale di presenza, la presenza della polizia di Stato che contribuirà a garantire maggiore sicurezza in ambito ospedaliero. Inizialmente è prevista la copertura 8 e 14, noi contiamo poi nel corso del tempo di ampliare la presenza anche in altre fasce orarie. L'attività della polizia di Stato al Bonomo si affiancherà al lavoro della vigilanza ospedaliera soddisfatta la direttrice generale della Slobiti Tiziana Di Matteo, la quale ha offerto anche un quadro preoccupante degli episodi di violenza in ambito sanitario in Puglia. Quando parliamo di aggressioni non parliamo solo di aggressioni fisiche ma anche psicologiche e verbali e purtroppo i dati sono veramente preoccupanti perché comunque si assiste da un'indagine che abbiamo condotto come Sergio il Puglia emerge che quasi un operatore sanitario su due oggi è vittima di violenza, chiaramente per lo più violenze verbali e psicologiche. Questo è un dato preoccupante, bisogna operare su più fronti a mio avviso, intanto anche sulla sensibilizzazione su quello che è il ruolo importante degli operatori sanitari perché gli operatori sanitari operano per la cura della salute dei cittadini e quindi aggredire la violenza contro gli operatori sanitari significa andare a minare la salute di tutti. L'iniziativa si aggiunge alle attività nate dopo la visita nella BAT ad ottobre scorso del ministro dell'interno Matteo Piantedosi. Andrea rappresenta solo il punto d'inizio. Questa inaugurazione oggi è un continuo rispetto alla venuta del ministro del 30 ottobre. Da allora sono aumentate le presenze delle forze dell'ordine, abbiamo potuto aprire questo presidio. Possiamo svolgere in maniera, spero si noti, più tranquilla ma anche più incisiva la nostra attività sul territorio.